E' sconvolta e frastornata la comunità dei frati Cappuccini di Fossombrone per il grave gesto profanatorio accaduto sabato pomeriggio. Durante l'ora di pranzo, poco dopo le 13.30, i gnoti si sono introdotti nella chiesa, profanando il tabernacolo e rubando il contenuto sacro al suo interno. Dopo aver trovato in sacristia la chiave del tabernacolineo del Seicento, interamente realizzato e riccamente intarsiato dai monaci, è stato portato via un calice e le pissi di contenenti le ostie consacrate per la funzione del pomeriggio assieme all'ostia madre. Un gesto di estrema gravità dal punto di vista religioso che ha lasciato costernati i frati, che sono subito corsi a denunciare l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Fossombrone, che ora stanno indagando. Sempre nella stessa giornata, nella parrocchia di Fratte Rosa, si è consumato un episodio simile dove sono stati portati via due vasi sacri, da valutare a questo punto se ad opera delle medesime persone o se di altri. Sta di fatto che l'intera comunità religiosa è in allarme per questi episodi che sembrano intensificarsi durante i periodi di festività religiose come la Pasqua e il Santo Natale. La comunità dei frati ha fatto recitare nella giornata di ieri a tutti la coroncina della misericordia in riparazione e per venerdì hanno programmato una giornata di digiuno. Ma la buona novella è arrivata nel corso della giornata odierna perché una donna del posto ha ritrovato ai margini della strada un sacchetto di plastica con una trentina di ostie, le pissidi e l'ostia madre spezzata. All'appello manca solo il calice, forse i ladri, pensando fosse di valore ed antico, se lo sono tenuti. Ma in realtà è di modesto valore, se non quello affettivo, essendo un regalo fatto alla comunità dei frati abbastanza di recente.